ciao ragazzi eccoci qua buongiorno buon lunedì 31 gennaio 2022 oggi ultimo giorno di calcio mercato oggi finisce tutto oggi si decide la squadra della juventus c'è una novità lo sapete lo avrete visto zaccaria è arrivato al j medical per sostenere le visite mediche di rito e questo sarà il primo video della giornata non escludo che possono essercene addirittura tre per parlare un po di tutto quello che è accaduto domani addirittura c'è la presentazione di vlaovic alla juventus e domani tra l'altro non è una giornata come tutte le altre perché domani è il giorno in cui cambio colore di capelli dato che ho prenotato il parrucchiere e guarda caso vlaovic parla alle 11 e 30 e io le 12 e 30 c'è l'appuntamento quindi è fatto tutto in linea aggiungo che ho preso pure la maglia di vlaovic quindi vedremo tutti questi contenuti ragazzi qui sul canale vi invito a mettere un mi piace e a scaricare one football perché chi non scarica one football l'ultimo giorno di mercato con una juve che in gennaio fa un calcio mercato di questo tipo sei fuori di testa amico mio ha inquadrato il qr code qui sopra perché a questo punto io mi aspetto da un momento all'altro che possa squillare e dire che il cobra cherubini e il maestro arriva bene stanno trattando l'arrivo di bappe per le ultime gli ultimissimi sgoccio gli ultimissimi secondi del calcio mercato a questo punto ragazzi qualsiasi calciatore è a rischio acquisto da parte di che i rubini arriva bene ragazzi sono scatenati scaricati come un football il mercato chiude alle ore 20 stasera quindi abbiamo ancora un pochino di tempo una decina di ore circa da quando sto registrando questo video per terminare le ultime trattative ieri non ho fatto video qualcuno detto tutto bene cosa è successo sono abituato a vedere un paio di video forse tre al giorno cosa sta succedendo guardate tranquilli sono qui sono vivo semplicemente ieri era domenica avevo un impegno quindi non era nemmeno accaduto chissà che cosa perché tutto quello che è accaduto nella giornata di ieri e quindi zaccaria che arriva a torino bentancur e kuluseschi direzioni a tottenham trattative chiuse le avevamo semplicemente anticipate sabato sera con giovanni albanese che ci aveva dato in anteprima tutte queste conferme e ci diceva ragazzi siamo veramente vicini alla chiusura quando la gente nei commenti ma anche ieri mattina di domenica la gente viene a dire bel video bella chiacchierata però non ci credo che alla fine arriverà zaccaria non ci credo che bentancur e kuluseschi quindi addirittura il giorno stesso la gente non ci credeva questa cosa noi già sabato sera noi io ve l'ho portato e giovanni ha dato le indiscrezioni che sapevano di clamoroso perché capivamo che eravamo lì vicini per ma che potesse incastrarsi veramente tutto nelle ultime ore di mercato questo non era assolutamente prevedibile io sono contento come un bambino il giorno di natale perché la juventus che fa un mercato di questo tipo a gennaio ragazzi è sintomo di di autovalutazione da parte della juve e che dice ragazzi così no così no quel famoso livello squadra competitiva è che avevamo detto probabilmente non era così io vi ricordo una cosa perché probabilmente ce lo siamo dimenticati signori ma sapete che siamo nel mezzo di una pausa nazionali perché solitamente le pause nazionali signori sono il momento più noioso dell'anno io ne parlavo con la mia fidanzata la settimana scorsa ho detto guarda adesso c'è la pausa nazionale ultimi giorni di mercato va bene ma chissà dio che cosa possa accadere poi inizia l'avvicinamento alla sfida di col verona quindi mi posso rilassare un pochino è se non gli avessi mai detto perché non mi aspettavo questo boom durante il mercato e che oggi comunque sta continuando perché ci sono delle trattative che anche oggi andranno avanti e per quello che vi dicevo di scaricare one food ragazzi oggi è l'ultimo giorno in cui anno ramsay se ne può andare dalla juve e attenzione che sembra che se ne andrà davvero stappiamo una bottiglia di birra stasera e festeggiamo tutti insieme perché a ramsay sembra davvero indirizzato a lasciare la juventus ora vedremo abbiamo ancora qualche ora vedremo e la juve la juve ieri sera ha preso anche gatti del frosinone così boom e li prendo tutti io li prendo tutti io giocatore che oggi avrà le visite mediche insieme a zaccaria e che poi tornerà al frosinone fino a termine della stagione ma è un giocatore della juventus tra l'altro ha soffiato al torino lo stava valutando come erede di bremer e attenzione che non possa essere un incastro del tipo no io prendo gatti a torino lo volevi guarda io te lo do come bremer ma sai che non mi dispiacerebbe dallo a me programmazione questa programmazione quella che abbiamo sempre detto negli ultimi tempi manca la juventus l'abbiamo detto tante volte alla juventus manca la programmazione e ora la sta facendo tutto in una volta spendendo anche soldi per profili che poi torneranno utili più avanti lo mettiamo un attimino da parte poi vedrete che tornerà utile caio caio dovrebbe decidere a brevissimo nelle ultimissime ore nelle prossimissime ore che cosa fare potrebbe anche rimanere a torino ma non è detto e attenzione che c'è una strada interessante che è quella che porta al cagliari che farebbe arrivare anche a torino nandes giocatore che avevamo già un pochino discusso nella scorsa settimana giocatore intrigante che non mi dispiacerebbe che andrebbe a dare un'opzione ancora in più al centrocampo della juventus e io io sono stupito perché il ragionamento che dobbiamo fare il seguente quando inizia la sessione di mercato e c'è la civil war tra i tifosi della juve secondo me serve un centrocampista no secondo me serve una punta il tutto si basava sul se esce morata chi arriva se esce artur chi arriva quindi se esce morata ci va bene i cardi se esce artur ci va bene rovella e poi si è iniziato a discutere di zaccaria dicendo beh sai zaccaria è un bel giocatore se esce artur perché no c'è artur è rimasto a torino e rimarrà torino e quindi prendi sia zaccaria che era il giocatore che pensavo potesse arrivare per sistemare al posto di artur e più ti tieni pure artur e c'è pure mckenny locatelli e rabbiò che rimarrà e vediamo se arriverà pure nandes quindi quel reparto il centrocampo che era sempre stato un po messo in discussione restyling completo nell'ultimo anno è nell'ultimo anno locatelli e zaccaria vediamo se c'è pure nandes e là davanti quelli cardi è diventato vlaovic e non solo è diventato vlaovic ma non nemmeno sostituisce morata a questo punto potrebbe sostituire caio giorgi che non è mai giocato perché morata rimane pure lui capite la follia che stiamo vivendo noi ormai eravamo nel mood proiettati sul e ragazzi le cose stanno andando male soldi in questo momento non ce ne sono tiriamo dritto mettiamoci una pezza e poi arriviamo a st'estate proviamo a fare qualcosa no 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 tutti subito e rimangono anche quelli che dovevano uscire è questo che alza il livello delle squadre ragazzi è questo che alza il livello delle squadre dovesse arrivare anche nandes ma anche se non dovesse arrivare la juve che andiamo a ritrovare contro l'ellas personalmente è una buona buonissima ottima squadra grande squadra non siamo ai livelli delle juve migliori degli ultimi anni non siamo ai livelli di card di berlino di quella roba lì no ma è una bella squadra questa ragazzi è una bella squadra che va costruita viene costruita secondo i primi dettami dell'allenatore cioè mi serve un giocatore come vlaovic mi serve un giocatore come zaccaria eccoli non mi serve più un giocatore come kuluseski sono disposto a rinunciare a bentancur via cosa significa questo che finalmente la juve sta ricominciando non so se vi ricordate quel triangolino di cui vi parlavo no dirigenza allenatore giocatori e deve esserci fiducia in tutti e tre avevo come la netta sensazione che mancasse l'incastro tra allenatore giocatori e ve l'ho detto tante volte mancasse fiducia tra queste due componenti io ora credo che allegri possa ritenersi soddisfatto del mercato possa ricollegarsi alla fiducia della squadra e penso che adesso abbia tutte 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 le carte a disposizione per fare quello che ha sempre fatto negli altri cicli avventus risultati cosa vuol dire risultati ad oggi purtroppo è tardi per lo scudetto e l'abbiamo sempre detto non ci siamo mai tirati indietro dato che non siamo servi e non siamo schiavi per citare qualcuno che abbiamo discusso di recente tante colpe sono di allegri fino adesso tante colpe io le ho attribuite ad allegri ma ricorderete quelle famose percentuali per me la colpa più grande era stata la dirigenza perché da anni a questa parte si intestardiva si intestardiva a cambiare gli allenatori non confermare non credere non dar fiducia agli allenatori e a mantenere giocatori che magari erano pure mediocre e non erano quelli che e quindi grande colpa alla società un po di colpe ai calciatori dato che da qualche tempo a questa parte tanti erano lì e tanti avevano staccato la spina appoggiandoci anche su ronaldo e infine la colpa all'allenatore ora che la dirigenza si è rimangiata quella gran percentuale di colpa con questo calcio mercato perché questo calcio mercato veramente fa ridistribuire quelle percentuali sta alla squadra l'allenatore con l'allenatore in primis in prima linea in trincea perché ora abbiamo una squadra che può fare cose non può vincere lo scudetto quello che dicevamo prima per tanti punti lasciati per strada persi però c'è una considerazione a fare da qui alla fine dell'anno io voglio prendere un calendario che inizia col verona finisce con la fiorentina e vedere quanti punti si vanno in queste giornate e poi confrontarlo con quelli di inter milan napoli atalanta tutte le altre squadre e vedere un mini campionato che inizia da questa giornata e finisce all'ultima per capire il livello di questa juve poi via la champions con un banco di prova importantissimo e anche qua mi sento di dire che allegri non ha non ha possibilità di nascondersi dietro al discorso di vediamo come va e poi vabbè se siamo no no perché siamo usciti con l'ajax ed era un ajax assurdo sappiamo anche che ha rischiato la finale di champions c'erano dei talenti che a fine anno sono stati venduti a una barca di soldi abbiamo visto dell'elite quanto è forte lo sappiamo noi abbiamo provato sulla nostra pelle e quell'ajax lì per quanto sulla carta non dovesse uscire con l'ajax si è rivelato una bomba ma rimane una squadra che con la quale dovevi probabilmente anzi dovevi passare dovevi probabilmente perché non è vero dovevi passare porto e lione se ci aggiungiamo il vero real ragazzi a maggior ragione dentro una stagione in cui la juventus fa un retromarcia così grande e ti dà questa rosa perché io ve l'ho sempre detto la rosa della juve la rosa della juve è una rosa mediocre che con cristiano ronaldo riesce a coprire i problemi ma non significa scarsa mediocre perché in tanti mi ricordo all'epoca mi dicevano ah quindi la rosa della juve è scarsa no mediocre è un'altra roba mediocre è un'altra roba è una rosa mediocre in serie a nel nostro campionato il quarto posto ve lo raggiunge tranquillamente una rosa mediocre come quella della juve anche senza ronaldo ed è per quello che avevamo dei problemi ed è per quello che si attribuivano delle colpe ai giocatori allenatore ora c'è una squadra buona una squadra molto molto buona e sta all'allenatore ci sarà un periodo di di inserimento certo perché non abbiamo il discorso legato alla preparazione estiva però da subito questi devono essere buttati nella mischia perché abbiamo preso giocatori pronti con esperienza che quello che chiedeva allegri giocatori che avessero già dell'esperienza poi bisognerà estruirli bisognerà inserirli bisognerà capire farli capire insegnare certo concludo parlando di bentancur e culzeschi che sono due giocatori che ragazzi a me sinceramente dispiace vederli partire per un profilo umano tecnico meno nel senso che su bentancur probabilmente ci abbiamo creduto tutti io non sono mai stato un fanboy né di bentancur né di culzeschi però ho creduto in entrambi come qualsiasi ragazzo che arriva alla juventus di belle speranze molto giovane e che potrebbe diventare il nostro futuro in entrambi ho riposto fiducia in entrambi avevo grandi aspettative e con entrambi quindi con entrambi alla fine non riesco a ad essere nel senso bentancur a parte la stagione di sarri ragazzi è sempre stato in quel limbo quel limbo tra giocatore che potrebbe esplodere giocatore che se devo scegliere nei titolari non ci sei ribadisco a parte la stagione di sarri dove ha fatto super bene e si meritava il posto giocatore con caratteristiche ben delineate ben definite recuperatore i palloni incontrista ma che con i piedi l'abbiamo visto l'ultima partita quella che fa col Milan partita perfetta sotto il profilo del recupero palloni e poi coi piedi male 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 ed è una roba che non la migliori quella puoi migliorare tanto nel recuperare i palloni puoi essere il miglior recuperatore i palloni della storia quello sì ma i piedi difficili che li aggiusti e penso che a bentancur siano state date tante possibilità e che alla fine si è optato per cederlo di fronte a una buona offerta buonissima offerta perché secondo me la spesa che fa il tottenham nei confronti alla juve è follia pura questo va detto eh ragazzi ci danno un sacco di soldi per quei due giochi 360-65 milioni circa quasi ti ripaghi Vlaovic con questa doppia cessione siamo fuori di testa e poi diversamente c'è il discorso legato a Kuluseski su Kulu mi dispiace un po' di più devo dire la verità ma per il semplice fatto che ancora secondo me non aveva esaurito tutte le possibilità di errore Bentancur l'abbiamo tenuto tanti anni eh e ha sbagliato tanto Rabiot è qua da un anno in più rispetto a Kulu e anche lui ha sbagliato tanto Alessandro sta sbagliando tanto da anni Bernardeschi ha sbagliato tanto in tanti anni però sono giocatori che sono ancora qui Kulu è stato un investimento grande forse a questo punto di paratici questo punto mi viene a dire di paratici per Sarri poi se l'è ritrovato Pirlo è stato il giocatore che ha giocato di più con Pirlo l'anno scorso la prima stagione alla Juventus non aveva fatto nemmeno malissimo ma era quel giocatore tipicamente grezzo da sgrezzare, da rendere calciatore e quest'anno ho visto un'involuzione da parte di Kulu e l'ho visto poche volte protagonista davvero poche volte protagonista ma si era capita la sofferenza di questo ragazzo tanti gol Coppa Italia Champions lui esulta non esultando in maniera critica si era capito che non aveva più quella spinta per essere a Juventus vorrei giocare di più però a un certo punto i giovani vanno aspettati ma non all'infinito e soprattutto se davvero ci si mette l'allenatore di mezzo a dire ok le linee guida del mercato le tiro io e calciatori che sono arrivati nei precedenti mercati per altri allenatori tabula rasa coraggio nel reinvestire quei soldi che arriveranno dalla cessione su altri profili come Vlaovic per esempio e ora cosa manca salutarli ringraziarli sperare che possano fare una buona carriera altrove augurarci veramente il meglio per loro perché sono stati comunque due ragazzi che hanno sempre lavorato nel silenzio e rispettando la maglia della Juventus non ho veramente niente da dire nei confronti né di Bentancur né di Kuluseski sotto il profilo dell'attaccamento alla maglia cioè sono sempre stati perfetti sotto questo punto di vista speriamo che possano continuare così e che non vadano poi a sputare sulla Juventus in futuro e invece lato mercato devo dire la verità non mi aspetto più tante cose ma non mi aspettavo nemmeno questa doppia cessione con l'arrivo di Zaccaria la trattativa per Nandes e l'arrivo di Gatti quindi non mi aspettavo nemmeno Vlaovic però devo dirvela tutta quindi queste ultime ore di mercato mi piacerebbe dirvi siamo spettatori ma quanto pare potrebbe non essere così fatemi sapere la vostra qui sotto sotto tutti gli argomenti che abbiamo snocciolato in questo video spero che che siate d'accordo sul me con me sulla valutazione dei due giocatori io lo dico tranquillamente secondo me facciamo un affare accedere a quella cifra a quei due giocatori lì anche perché quei soldi che avevamo investito per Kulusevski all'epoca uno dei più grandi problemi del tifoso era ecco avevamo pochi soldi all'esposizione ne abbiamo messi tantissimi lì non ci torneranno mai indietro invece ti stanno tornando indietro perché il Tottenham circa te lo paga la stessa cifra quindi con addirittura l'ammortamento rischi pur di fare una plusvalenza veritiera e quindi grazie Paratic e grazie Conte e vi auguro ovviamente che in Premier possano fare molto bene questi due ragazzi